se come no ti 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 non c'è nessuno io vado in chiesa sta un erdop là giù e vabbè io prendo oh ci stanno due vicini di erdop basta con sti urli che zitto tu aspetta mamma mia no no fermo 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 mi incazzo eh aldeo eh si vi ah ok ci stai l'ho prendito il cerchino no hanno fatto il più p mi ha abbassato uno si ti prego arrivano arrivano sono per arrivare arriva gente ne sono sicuro vai eh si se c'hai materiali tipo mattoni costruisci migliora grande morto oddio siamo noi un altro ce l'abbiamo sopra ce l'abbiamo sopra eccolo no vabbè se ti ammazza no non ci ammazza ammazziamolo eccolo io lo rascio eh si vieni no si sta a chiudere aspetta eh dai aspetta provo a ammazzarlo con la trappola anzi no provo a ammazzarlo con la trappola aspetta no mi sta a sparare mi sta a sparare si eccolo si 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 si